ottenuta la bonifica del famigerato canale dei veleni del porto il comitato 7 agosto rivolge l'attenzione verso altre emergenze di san ferdinando il nuovo obiettivo degli attivisti che l'estate scorsa si erano fatti apprezzare per la battaglia contro gli sversamenti dall'area portuale è diventato la salvaguardia progressiva della pineta aderendo alla campagna nazionale let's clean up europe è stata eseguita una prima pulizia straordinaria del polmone verde grazie all'appello lanciato dal comitato e dall'amministrazione comunale parecchi cittadini si sono dati da fare con guanti e rastrello senso civico e amore del decoro alla fine dopo il risultato raggiunto da un lato la possibilità di chiedere una definitiva manutenzione dell'area verde che ha alberi malati e a rischio vandalismo e manca di servizi dall'altro lato però anche l'offerta di un'immagine nuova della località turistica l'estate scorsa compromessa dall'emergenza degli scarichi e quest'anno pronta con lungomare rifatto ad attrarre i vacanzieri di questo si è detto convinto il sindaco andratipodi intervenuto all'iniziativa assieme all'assessore luca gaetano ricordando anche gli sforzi fatti per la rinaturalizzazione del fiume mesima agostino pantano per la c news 24